Buonasera a tutte e a tutti. Fino all'altro giorno avrei iniziato il discorso raccontandovi chi sono, cosa faccio, un po' la mia storia, oppure naturalmente tutto ciò che vai a raccontare a una persona che non conosci. Però recentemente mi è capitato un episodio molto inusuale dal mio punto di vista lavorativo e anche inusuale per l'età che io porto. Io mi chiamo Susanna Yubai, è un nome che mi sono scelta. Sembro giovane ma non sono così tanto giovane, quindi i geni asiatici aiutano. L'episodio che vi racconto è questo. Qualche settimana fa, io sono fotografa videomaker, quindi qualche settimana fa ero a lavorare a un matrimonio. Per inciso, i matrimoni secondo me sono una delle attività forse più nobili dell'arte audiovisiva in cui uno può lavorare, perché vai a lavorare per l'amore, quindi il tuo committente è l'amore delle coppie. Chiuso e inciso. Comunque, a questo matrimonio ero con un fotografo. Siamo andati a fare la preparazione dei sposi, tutto va bene, tranquillo, a posto. Una volta finita la preparazione dei sposi, siamo andati, invece ci stavamo dirigendo verso la chiesa, come naturalmente si va a fare di solito. Io con lo zaino, il mio cavalletto con la videocamera, uno stabilizzatore avevo nell'altra mano come quello che vedete adesso in giro. Il fotografo mi precedeva e precedendomi naturalmente lui ha incontrato queste due signore che erano le fioriste del matrimonio. Le fioriste lo salutano, si conoscono, chiedono come va, chiedono di fare delle belle foto dell'allestimento, perché ci tenevano e tutto. Io, naturalmente carichissima, arrivo e lo raggiungo, il fotografo. E l'atto inusuale che mi è capitato è che una di queste due fioriste, vedendomi, fa questo gesto. Ma che bella ragazza, ma che bel team internazionale. Confusa. Susanna era confusa. Susanna è nata a Milano, cresciuta in Italia, lavora in Italia, è andata in Cina neanche dieci volte, quindi non posso neanche tirare su tutte le dita delle mani, per dirlo. Confusa. Perché questa signora, se era in qualche modo permessa di poter fare questo gesto carino che tendenzialmente fai a una bimba deliziosa, graziosa, a me, che sono ormai una ragazza che va verso i 40, ok, quindi ai 30 passa, che stava lavorando. E questo mi ha fatto un po' pensare. Perché questa signora si è permessa di fare questo gesto? Perché purtroppo sono una ragazza straniera, ai suoi occhi. Una ragazza asiatica, una ragazza, una donna, una ragazza, quindi, che probabilmente lei non ha mai visto fare un mestiere che per lei era un mestiere, diciamo, prettamente italiano bianco. Quindi mi sono sentita un po' orpillata, nel senso che se fosse stato un cinese maschio, probabilmente non l'avrebbe fatto. Un videomaker ragazzo non l'avrebbe fatto. Se fosse stata una mia collega donna, italiana, non l'avrebbe fatto. Perché a me sì? Quindi, dall'orripillazione, mi sono anche chiesta ma perché questa signora non ha avuto la capacità di immaginare che potesse fare un mestiere del genere? Allora mi sono chiesta che cos'è l'immaginazione. E se una signora di 50 anni, ok, probabilmente anche di paese, non riesce a immaginare, come facciamo a far immaginare la mia comunità, le generazioni future? Come facciamo? E quindi mi sono messo a cercare un attimo sul dizionario che cosa significasse immaginazione. Cioè, cos'è l'immaginazione? È una particolare forma di pensiero che non segue regole fisse, né legami logici, ma si presenta come per riproduzione è una elaborazione libera del contenuto di un'esperienza sensoriale. Quindi, naturalmente, i sensi, le tue emozioni, i tuoi stati d'animo, legata a un determinato stato affettivo e spesso orientata attorno a un tema fisso. E quindi, mi sono... ho pensato, se noi riusciamo a cambiare l'immaginazione di queste persone, a fargli cambiare la percezione della realtà in cui loro vivono, avremo quindi una realtà percebita molto differente. E qui arriva un mio pensiero come mio dovere di essere. Nura, anche lei, diceva di esserci. Un dovere da professionista creativa, in quanto, quindi, videomaker colored, perché, purtroppo, se dico di colore, in Italia abbiamo tutt'altro significato. Però, è quella, naturalmente, di far sì che, anche con la tua presenza fisica, in contesti che probabilmente non sono consoni, come un matrimonio italiano, un pavese, in provincia, di esserci e di creare, quindi, questi immaginari. Quindi, cosa dobbiamo fare? Noi, diciamo, creativi, innanzitutto, esistere. Quindi, cercare di sostenerci nelle nostre attività creative e artistiche, cosa che è molto difficile. Dobbiamo esserci per poter immaginare e di poter fare. Ma dobbiamo, quindi, anche resistere nel nostro esserci, per poter poi immaginarlo o di poterlo fare. E dobbiamo, però, metterci nelle condizioni in cui deve essere sostenuti e quindi di poter immaginare e di poter fare. Ma queste condizioni, a volte, sono avverse, a volte sono difficili a trovare. e quindi dobbiamo anche cercare di trovarle, crearle da noi stessi queste condizioni. Non possiamo aspettare che siano solo gli altri, le istituzioni, l'ambiente intorno, ma provare anche noi ad esserci per poter immaginare, per poter essere, per poter fare e per poter ispirare a questo punto. Ma non basta solo sapere dell'esistenza di queste persone e di questa creatività. Bisogna che anche queste professionalità, queste rappresentanze vengano in qualche modo diffuse. E quindi se la narrazione è diffusa, gli esempi sono visibili e le storie sono condivise, allora sì che il futuro di una ragazza come me viene poi visto e pensato e si può immaginare in un ambiente diverso. L'anno scorso ho partecipato alla realizzazione di un documentario che si chiama Cinesi in Italia. Questo documentario è stato realizzato dall'Istituto Confucio dell'Università di Torino, raccoglieva una testimonianza di interviste di storie. Ma vi racconto di questo documentario non perché voglio che lo andate a vedere, ma perché questo documentario dal punto di vista sociale è stato molto di aiuto a questa classe liceale di Trieste. Questa professoressa mi ha contattato tramite i social network e mi ha chiesto oltre a venire a raccontare quindi la realizzazione di questo documentario anche di portare la propria esperienza. Questo perché il documentario è molto particolare. Io stessa ho diretto ma sono anche intervistata. quindi i ragazzi hanno potuto in qualche modo oltre a capire le difficoltà, le dinamiche che ci sono state all'interno di questo discorso di raccolta di interviste, di tematiche di inclusività, di identità, di cittadinanza, di razzismo, anche la possibilità di verificare con i loro occhi l'esistenza di una persona che c'era dentro il documentario. infatti questa professoressa qualche giorno dopo mi scrive dicendo che ringraziandomi tantissimo dicendomi che la ragazza la sua studentessa cinese dopo aver visto il documentario e dopo aver sentito le mie parole è riuscita ad aprirsi con questi argomenti. Quindi io concludo molto brevemente dicendo che dobbiamo perseverare è difficilissimo ma perseverando e continuando a fare ciò che sappiamo fare meglio e ciò che rappresentiamo purtroppo la signora del buffetto me l'ha dato e quindi non potrò tornare indietro da ciò continuando a perseverare a cambiare riusciremo in qualche modo a cambiare l'immaginario delle persone e riuscire quindi a noi a vederci in questo immaginario che sarà comune a tutti. grazie a tutti